la moglie a a vivere in questo motel in frattempo lo rimane in questa casa a gestire un po tutta la situazione e in frattempo a cercare di indagare e trovare qualcuno altri soldi da spendere a trovare qualcuno per indagare chi c'è stato prima se sono successe cose strane eccetera e ingaggia questa detective privata che lei riesce a scoprire un ex proprietario di casa incontrerà questo ex provvedere di casa in un diner e da qui in poi questo tizio racconterà un po tutto quello che è successo lui era un grandissimo agente produttore diciamo di attori eccetera quindi si poteva permettere qualsiasi cosa il prezzo era pure buono della casa quindi vuol dire che proprio la stavano svendendo e qui si trasferisce un sua moglie perché sua moglie ha avuto un po di problemi di depressione suonava il violino se non mi sbaglio ha avuto questa depressione di un anno e mezzo per colpa del parto e qui in poi no sembrano stare bene tutto finché arriveranno quei vicini quei due rompicoglioni no che osservano sempre dall'altra parte della strada che si insinueranno nelle vite di loro fino anche a chiedere no dice sai se avete problemi cose ve lo teniamo noi vostro figlio eccetera finché la sua moglie no inizierà a vedere cose strane e movimenti anche strani in casa delle allucinazioni lei pensa anche lui pensa che siano delle allucinazioni finché si andrà anche oltre ovvero ovvero per niente vedranno il figlio gli racconterà che per niente ha visto quando stava a casa di questi due tizi no questi due i due sti vicini di casa rompicoglioni mentre vede questo sacrificio di questo di questo bambino e quale parte diciamo l'allarme generale ovvero cazzo andiamo via che cazzo siamo vicini vicini di casa e altri vicini forse saranno faranno parte stasette perché erano tutti incappucciati erano una decina di persone intorno a tavolo e che bevano il sangue qua in poi il sì un altro piccolo incidente diciamo che fa fuggire veramente la famiglia ovvero quando questo il bambino che piccolo mi sa madre tre anni cinque anni si taglia un dito e la madre lo scopre niente che in questo sotterraneo sotto la casa insieme alla signora vicina che la sua vicina ci ciuccia il dito col sangue sorride e da qui in poi no vanno via si trovano in un monolocale eccetera sembra andare ha perso lui quasi tutti gli agganci che aveva gli attoroni che aveva prenderà persi tutti perché non sta facendo più il suo lavoro è un giorno una sera che torna a casa ritrova sua moglie appesa al lampadario sopra al letto e da lì ci hanno distrutto completamente la vita la casa non si sa chi cazzo l'ha venduto perché dice l'ho venduto da un srl e qua diciamo si chiude questa storia diciamo del di questo ex proprietario se vogliamo aggiungere qualcosa diciamo nel motel ci sta questo ragazzo no del che sta facendo la guardia per 20 dollari all'ora ovvero il ragazzo che sta mettendo anche le intercamere di sicurezza nella casa e che fa un po il marpione no con quella figlia del nostro protonista che prima lei dice maniaco maniaco e poi quando ti dicono maniaco cioè di solito non è così però questa qua è una cretina alla fine perché dice gli piace la pescina a motel gli piace solente il cazzo questa è la cosa che le interessa andare lì quindi stiamo a vedere un po cosa si nasconde la polizia loro dicono che che forse era pazzo questo è che una superiore sta porta dice ma cazzo ci sono state le persone si sono lamentate che hanno ricevuto anche loro delle lettere di questo fandomatico osservatore quindi perché cazzo non avete fatto mai niente dice a meno ma non ho detto mai niente dice le febbiere dice non sa niente c'è nessuno sa un cazzo che lui è preso che è stato preso come un deficiente per colpa che si impasticcavo a merda questo è il problema è che quindi lo prendiamo come una persona che aveva allucinazioni una persona instabile e pazza ora stiamo vedendo un po la terza puntata cosa accadrà cosa succederà mi sembra che succede quella cosa qua nel fine episodio di questo qui succede quella cosa brutta no no quella cosa dei vicini che io succede a loro mi sembra sì qui che può finisce e qua prende e l'episodio di si concludere sussate mi dicevano e che siamo visto alla terza puntata abbiamo iniziato e quindi i collegamenti sono un po svanete se non andate a controllare scusate niente si prende i vicini di casa quelli che romperono i coglioni no questo non dovete farlo questo così questo in quella maniera per niente alla fine di notte si sentono questi spari uno sovranista si sveglia pensando che è stato un sogno un qualcosa e lì domani mattina scopre che i suoi vicini di casa sono morti sparati ovvero il marito ha sparato a lei perché era malata di cancro forse non farà soffrire e poi si è sparato a lui ma non lo so io non ci credo a stare stronzata penso che sono stati uccisi perché anche il giorno prima hanno avuto questo screzzo lui e con questa vicina di casa che è morta il figlio in colpa loro e che per niente pensano che sia stato diciamo la cosa che lui li ha bistigati a fare un un gesto del del genere vabbè tutto secondo me messo e architettato da questa setta secondo me ma staremo a vedere un po come proseguirà stiamo vedendo un po per adesso mi sta intrippando mi sta piacendo e non so neanche se la starete seguendo in questo momento se non l'avete vista ancora detto questo ci vediamo alla prossima invenzione